Ho fatto un riassunto in italiano o in cinese? Allora, prima di tutto faccio un breve riassunto in italiano. Io credo che i professori italiani capiscano già perfettamente l'inglese, ma essendo interprete faccio un breve riassunto, perché la professoressa ha fatto un riassunto del sviluppo della medicina tradizionale cinese nel scenario, nel piattaforma internazionale. Ha menzionato la signora Tuyuyo perché lei ha vinto il Nobel Prize perché lei ha scoperto una medicina tradizionale per una malattia, anche perché, ma se io voglio fare un breve riassunto di mettere la cosa in chiave, la professoressa ha detto che per lei è una cosa importante, anche complicata, di spiegare agli studenti, al pubblico, al bobbolo, al mondo, che funziona, veramente la medicina tradizionale cinese funziona. Per noi è molto difficile spiegare e anche per farvi fare il mondo credere perché funziona. Secondo me a causa del dialogo, anche perché la calenza della nomenclatura, la nomenclatura della medicina tradizionale cinese è talmente difficile da trasferire in un'altra lingua, anche perché noi non abbiamo un sistema completo come quella medicina occidentale per fare tutti i dati, avere tutti i dati clinici per approvare, confermare, per dire al mondo che la medicina funziona. Quindi questo è una cosa che volevo mettere in rilievo, anche vi invito a fare la collaborazione insieme a me, insieme a noi, per dire, per spiegare, per fare una ricerca congiunta, anche uno studio congiunto, per trovare un metodo scientifico per convincere il mondo che funziona veramente la medicina tradizionale cinese. Anche lei ha fatto un breve riassunto delle sue esperienze. Lei ha menzionato quel movimento, si chiama movimento del 4 maggio, perché questo movimento è successo. Cento anni fa, l'anno scorso è il cinquantesimo anniversario di questo movimento. Durante questo movimento, perché gli studenti, anche il popolo, ha aperto che la Cina era arretrata per quanto riguarda la tecnologia avanzata del mondo occidentale, anche perché per questo motivo loro hanno messo anche la medicina tradizionale cinese come un elemento di simbolo arretrato. Quindi loro volevano temorire addirittura medicina tradizionale cinese, applicare, introdurre medicina occidentale nel sistema sanitario cinese. Secondo me, mi dispiace molto. Per me è un sentimento, come dire, amaro, ricordando di questa storia, di questo movimento nella nostra storia. Ma oggi, con lo sviluppo della tecnologia, con lo sviluppo della biologia, con lo sviluppo della medicina, il mondo ha scoperto, ci sono delle malattie con cui non funziona tanto la medicina occidentale. Ci vuole qualcosa di più, qualcosa che è basato sulla teoria diversa da quella occidentale. Ricordiamo a medicina tradizionale cinese, veramente perché noi abbiamo una cultura, anche negli anni, più di 5.000 anni, la medicina tradizionale cinese. Ha dato il suo contributo per curare il popolo cinese. Funziona, veramente funziona, ma per noi è così complicato, così difficile per convincervi. Perché funziona? Quindi vorrei invitarvi tutti i professori internazionali collaborare con noi per trovare un metodo scientifico, statistico, che adesso tutto il mondo sta raccogliando di questo metodo che è intratto dal mondo occidentale. Per trovare un metodo per spiegare la medicina tradizionale cinese, non solo la teoria, ma anche la pratica. Quindi questo, veramente, personalmente io non conosco molto bene questa associazione, ma oggi io mi sento molto onorata, anche mi sento molto, mi sento molto lieta, volevo cogliere di questa occasione di invitarvi tutti voi a lavorare insieme a noi per sviluppare, per promuovere la medicina tradizionale cinese. Allora, adesso faccio un breve riassunto in cinese. Ora, io ora ho voglio tutti, perché devo chiare il tema' abbastanza internazionali solito, perché ho voglio chiare una nuova, perché ho voglio chiare il fatto importante, perché ho voglio? ho voglio sentito sia molto tempo per farlo, perché ho voglio capire la chiama sette il metodo le sceglie di cui, soprattutto gli effetti di un nucleato di lavoro, perché ho voglio capire il momento, la sua immagine di attrazione, perché la mia amanda, perché come il fatto di vicino a noi, ha messo un'essere solo un'essere un'essere di un'essere, non è un'essere 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 di un'essere. In questo, l'essere di questo lavoro, ha sentito molto difficile di essere, ha capito che ha capito che un'essere di più, perché come capito a tutti i nostri amati, come per ieri sorgati, come per ieri di rinnovare, amicitti sono in giustizia che sono in grado di acquica in specifiche alte ricche o in grado di prima in grado di circa ciò per molti o in grado di stato o in grado di testere o in grado di questa quali città in questo partice in in questo punto è stato un nemico ontoi un po' di fra perché come in a deep chiama Grazie a tutti. 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 Invitiamo il professor Liu Chinquan, decano dell'ospedale di medicina tradizionale cinese di Pechino, esperto del trattamento di malattie acute con la medicina tradizionale cinese. Invitiamo il professore a tenere il suo discorso. Siamo molto onorati. Scusi. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. e fondamentale dell'esperienza clinica per gli esperti di medicina tradizionale cinese. Abbiamo l'onore di avere il professor Sun Pei Din, che è dedito all'insegnamento dei testi classici di medicina tradizionale cinese in Europa, presso varie università, tra cui di Belgio e Inghilterra. Quindi siamo onorati di invitare il professor Sun Pei Din a tenere il suo discorso. Prego. Grazie a tutti. 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 Oltre la mia immaginazione, il governo provinciale italiano forniva ad ogni medico tutte le spese di vito alloggio, anche studio. Anche il governo compensava la perdita dei medici a causa della chiusura della clinica per lo studio in Cina. Quindi potete immaginare quando sia. Quattro, a quell'epoca io sono molto sorpreso anche alle spese di questi studenti medici perché a quell'epoca l'Italia era uno dei paesi sviluppati, quindi quegli studenti potevano godersi di fine settimana volando da Nankino a Hong Kong, da soli o in gruppi, per shopping o per mangiare cibi deliziosi. Per me è una spesa enorme. Anche mi ricordo a quel tempo c'era un ristorante russuoso, si chiamava Jingling Hotel a Nankino. Per noi la gente qualunque non si poteva neanche entrare perché è un posto russuoso, si poteva entrare solo dopo un severo controllo della carta d'identità, ma questi studenti italiani vivevano là, dormivano là, anche qualche volta ci portavano a cena dentro questo hotel. Per noi c'è tanta differenza tra lo stato economico, tra China e l'Italia. e l'e Nessuno è un paese di un paese di un paese di un paese di un paese. Nessuno è un paese di 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 più. Vorrei citarne due aspetti. Grazie alla cultura, alla storia, lunga storia, anche splendida cultura. L'Italia è sempre aperta a raccogliere medicina tradizionale cinese. Secondo me, grazie alla cultura, grazie alla civiltà. Non come, secondo me, una cultura, una civiltà che è più avanzata, raccoglie più le idee nuove, anche che raccoglie più le altre conoscenze degli altri popoli. Il clima è un elemento importante per quanto riguarda l'apertura della mentalità del popolo. Io ho notato che dove la temperatura è media, annuale, è più alta, il popolo di dove, in cui vive, è più aperto alla nuova conoscenza, alle nuove idee. Nelle zone più fredde, le persone sono più fredde. », grazie a tutti, questa è la sua capacità di ricerche. Si vede che lo sviluppo della medicina tradizione La medicina tradizionale cinese in Italia è un frutto del sostegno del governo, entusiasmo del popolo belbaese che raccoglie ogni opportunità e i talenti geniali che dedicarsi a diffondere la medicina tradizionale cinese. L'Associazione Nazionale Italiana della MTC è fondata in un momento speciale. Adesso io ho saputo che il comitato direttivo è composto da 26 professori esperti di fama mondiale e anche estremamente prezioso. Il che dimostra che l'Italia è un paese con grande attrazione. Gli organizzatori dell'Associazione hanno un leadership eccezionale. Quindi adesso, tempo giusto, politica favorevole, risorse umane pronte. Quindi tocca a noi augurare un buon successo alla nostra associazione. Quindi non faccio che dirvi a data voce, successo sarà con noi. L'Associazione avrà sicuramente un buon futuro. Grazie. E ora è giunto il momento tanto atteso. Il Presidente dell'Associazione Nazionale Italiana di Medicina Tradizionale Cinese annuncerà le nomine del comitato e del segretariato dell'Associazione. Lasciamo la parola al Presidente Guo Chungbiao. Scusi a tutti. Allora, in questo momento, prima della nomina, ancora c'è una grande... Lui, il Presidente dell'AIMPC, il Presidente Sergio Patano, voleva presentare il suo discorso. a noi. Prego, Presidente Sergio Patano. Allora, ringrazio. Salve a tutti. Grazie Presidente Guo. Secondo solo perché io ho un po' di problemi con l'AIMPC. Grazie al Presidente Guo per l'invito e la grande amicizia che mi ha dimostrato in questi anni di lavoro insieme con l'AIMTC e adesso la Fondazione dell'Associazione Nazionale Italiana di Medicina Tradizionale Cinese. Brevemente, anche con l'aiuto della professoressa Linda, chiedo la stessa modalità della traduzione frase per frase, così sarò più breve e preciso. Cercherò di, diciamo, di esprimere il mio favorevole consenso alla fondazione di questa associazione. Cari simi colleghi in MTC, Medicina Tradizionale Cinese, io sono Sergio Patrono, Presidente dell'Associazione Italiana di Medicina Tradizionale Cinese, membro del direttivo del Sindacato Italiano di Naturopatia e del Comitato Tecnico Scientifico in MTC del Sindacato del SINAP. Ringrazio tutti voi per avere diritto all'invito e a questo grande progetto. Ringrazio in special modo il Presidente, il Dottor Guo, il direttivo costituente per il prezioso lavoro svolto finora e per quello che verrà. Lo spazio che mi è stato concesso per il discorso lo vorrei spendere brevemente per sottolineare l'importanza della nascita di questa collaborazione internazionale nel campo della medicina tradizionale cinese. Lascio tradurre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il momento per l'aggregazione e lo scambio delle competenze e del supporto nello sviluppo della medicina tradizionale cinese, nella didattica, nella ricerca, nella pratica clinica è adesso. Millenni di storie e di pratica medica ci vengono concessi per integrare nel tessuto delle nostre attività e nella nostra sanità pubblica. Aggiungo anche che di fondamentale importanza ad oggi è creare aggregazione con lo scopo di condividere e di crescere in professionalità, mettendo da parte le diversità ed accettando le complicanze che si manifestano dalla novità di utilizzare uno strumento antico e complesso come quello della medicina tradizionale cinese. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ha還有氣功, ha還有推拿 Ha还有按摩 Ha還有太極 有太多的東西 需要我們去實際 我們應該是全方面的 去學習中醫藥文化 也是在這種基礎上 我們才能說 我们深入地了解了中醫藥文化 我現在想引用一個 戰國時期的 這樣的一個名言 其實也就是戰國時期 è stato un'usage, riuscente di quanto sia un'usage, che è stato un'usage di sperimenti, che può essere un'usage di più, è un'usage di questo punto di farlo, che sia un'usage di questo tipo di divinamento, questo è stato un'usage di un'usage di più di più di più di più di più di più di questo tipo di questo sistema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Non dovevo tradurre quindi... Grazie a tutti. Anche durante la Covid-19 la medicina tradizionale cinese ha fatto un buon performance nel tratamento di questo virus. Anche ci sono stati attestano che la medicina tradizionale è ancora meglio nelle malattie, per esempio cancro, per esempio qualche malattia cardiaca, anche qualche malattia cronica. Quindi io mi fido del successo della medicina tradizionale cinese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La medicina tradizionale cinese nel suo trattamento e anche nelle sue diagnosi hanno un metodo speciale. Anche con lo sviluppo di mille anni hanno già accumulato tanti libri classici. Io volevo evidenziare che la medicina tradizionale cura non solamente una malattia ma anche doglie, radice della malattia. La medicina tradizionale cinese non solamente tratta la malattia, anche presta più attenzione al benessere del tutto il corpo dell'essere umano. Vuol dire una cosa in armonia. Quindi non solo acupuntura ma anche medicina cinese, anche di quella di tutti i settori appartengono a medicina tradizionale cinese, funzionano per curare ma più anche per profilarsi, prevenire. Grazie. Buon successo all'associazione anche spero che questa associazione fungerà come una piattaforma per promuovere la medicina tradizionale in tutto il mondo. Ringrazio ancora il signor Kuo, ringrazio ancora tutti gli amici presenti qua. Io vorrei dire che garantisco la mia disponibilità lavorare con voi per promuovere, diffondere la medicina tradizionale cinese. E poi grazie anche della vostra fiducia. Io vorrei dire che garantisco il mio lavoro, garantisco il mio entusiasmo. Anche questo me lo impone anche con l'amicizia con questa associazione e con il presidente Kuo. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 , a tutti. grazie a tutti. 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 a tutti.